Qui vi presentiamo le 5 migliori alzasedia per bambini. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Badawool EB009403 Rialzo per viaggio. È un comodo rialzo del sedile che solleva il bambino di 10 cm. Adattabile a qualsiasi tipo di sedia, è molto affidabile e stabile. Si fissa alla sedia in tre fattori utilizzando fasce flessibili e mantiene anche il bambino legato in modo sicuro. A seconda allo sviluppo del giovane diventa uno zaino ed è semplice. Passando al numero 4. Munchkin 011021 Rialzo da viaggio per sedile. Si fissa al sedile e allo schienale della sedia in modo rapido e sicuro. Quando non viene utilizzato diventa una borsa a mano in cui puoi mettere i biberoni e anche alcuni accorgimenti per il neonato. La capacità è sufficiente per soddisfare le esigenze fondamentali. Può essere consumato fino ai 3 anni ma il bambino fin da piccolo dovrebbe poter riposare da solo, non avendo grosse guarnizioni laterali che lo può per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Kikko Pocket Snack Rialzo sedia. Seggiolino auto con seduta ampia e anche comoda adatta alle esigenze dei bambini dai 6 ai 36 mesi. Facile da aprire e anche da chiudere. Può essere trasportato ovunque grazie alla pratica tracolla, visto il suo peso ridotto. Si fissa in modo stabile alla sedia, rallentando sia al sedile che allo schienale per mezzo di fasce regolabili. Può essere posizionato in altezza su 3 diversi livelli pur avendo... Almostat è top of our list at number 2. Piene borsa seggiolone alza sedia, alza bimbo, seggiolino da tavolo. È un seggiolone imbottito funzionale che eleva la posizione del bambino di 15 cm rispetto alla parte superiore della sedia. Si collega il sedile allo schienale in modo rapido e sicuro. È davvero semplice da usare a due scomparti interni molto capienti e ha anche una pratica tasca laterale per mantenere il contenitore vicino. Si può portare comodamente grazie alla tracolla. E infine il numero 1 della nostra lista. Pepperegualza sedia rialto, berli. Questa versione utilizza il bambino in tutta sicurezza e protezione grazie ai tre fattori di ancoraggio delle cinture oltre che ai braccioli laterali. Facile da aprire e anche da chiudere, può essere trasportato ovunque con la sua pratica borsa. Una volta sistemata la sedia sia la seduta che lo schienale, è facilmente modificabile in altezza a 5 diverse regolazioni. Da 18 a 6 centimetri è adatta a bambini da 9 mesi a circa. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video.